Il sinistro si è verificato intorno alle 7 sulla statale 115 nel tratto che da Vittoria Portagela. Una nicemese di 40 anni che viaggiava al volante di una Fiat 1 in direzione Vittoria per cause tuttora al vaglio degli inquirenti all'altezza del ponte di Rillo, forse a causa dell'elevata velocità o del cattivo stato degli pneumatici, ha perso il controllo del proprio mezzo che è sbandato andando a schiantarsi contro un muretto a secco. Violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo alla quarantenne, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Ipparino per estrarre la donna dalle lamiere contorte del veicolo. Subito gravissime sono apparse le condizioni della nicemese che è stata trasportata negli soccorso al Sant'Elia di Caltanissetta, dove è deceduta poche ore dopo, a seguito delle gravissime ferite riportate. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Vittoria per i rilievi di rito. Dei primi accertamenti sembra che la donna si stesse recando al proprio luogo di lavoro quando è avvenuta la disgrazia. A causa del sinistro la traffica d'arteria è rimasta bloccata per alcune ore e il traffico è stato dirottato verso strade secondarie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.